Si inizia a vedere il lavoro di Paolo Indiani e di tutto il suo staff. L'Arezzo Prato contro una squadra di pari categoria, magari più indietro nella preparazione fisica, ha palesato una buona condizione. E tutto questo è emerso dalle battute iniziali che hanno visto una squadra decisa subito ad aggredire l'avversario con precise coordinate che il tecnico sta disegnando tutti i giorni al campo lebole. Le reti sono frutto di manovre ben congegnate e poi ci sono le variabili figlie delle singole giocate. Gaddini conferma essere più di un'alternativa alla pari dei ragazzi che sono collegati sulle corsie laterali. La rete di Convitto, tanto per fare un esempio, è frutto di un cambio gioco che ha premiato l'intuizione del baby Pericolini e la tempestività dell'esperto Convitto. La sicurezza si chiama Settembrini. Gli Amarato tra l'altro sui calci dal limite hanno un'arma in più e Settembrini può colmare il vuoto lasciato da Cutolo che infatti di calci di pulizione non era secondo a nessuno. Domenica di pausa, poi si torna al lavoro, saltata l'amichevole infrasettimanale con il Ravenna. C'è da scegliere un nuovo sparring.